Le banche del tempo italiane nascono dal desiderio di condividere, di arricchirsi reciprocamente con un'unità di misura che rendesse la pari dignità a tutti. E si chiamò banca perché l'idea geniale fu la quantificazione comunque di uno scambio dando un valore e non un prezzo. Chi desidera aderire a una banca del tempo ha questa apertura mentale per poter avere uno scambio perché si parla sempre di scambio, uno scambio con la pari dignità perché un'ora mia vale un'ora tua e la quantificazione avviene con un carnet degli assegni e il compito è poi la registrazione che compete si chiama animatore, chiamalo coordinatore, chiamalo presidente, è una persona che assume questo ruolo e fa sì che non si vada in rosso. Il bello ed è difficile nella famiglia delle banche del tempo che ognuna fa a sé. Ci sono degli elementi fondanti come un codice, chiamiamo un codice di regolamento dove i principi fondanti sono i medesimi, scambio paritario a prescindere e quindi associazione a partitica, a confessionale, indipendentemente dal ruolo, dall'età, dalle tue capacità, dalla tua professione e si accostano sapendo, desiderando rimettersi in gioco. Sembra una cosa sfacile ma non è così scontato. Però c'è questo desiderio, desiderio di uscire un po' dalla propria solitudine e di uscire anche al di fuori del proprio ambito di gruppo.